Mercoledì della quattordicesima settimana del Tempo Ordinario, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamate a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono Primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo e Pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro, non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Chiamati a sé i dodici discepoli diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. Ogni cristiano può e deve considerarsi discepolo di Gesù. Ogni cristiano può considerarsi depositario di questo potere che egli dà di liberare e curare. Il cristianesimo non è un beneficio individualistico che mi fa stare bene. Il cristianesimo è un bene che, entrando nella mia vita, fa bene soprattutto a chi mi sta intorno, a chi incontro, a chi mi è affidato in qualche modo. È un dettaglio che non dovremmo mai dimenticare. E accanto a questo non dobbiamo nemmeno dimenticare che questa chiamata non coinvolge anonimamente dei soldati per impiegarli alla grande causa del regno, ma chiama per nome ognuno, con la propria storia, la propria speranza, i propri difetti. Ecco perché il Vangelo indugia nel dirci i nomi di tutti gli apostoli. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro. Non andate, frevagani, e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgeteli piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Infatti, non c'è terra di missione più bisognosa e difficile, se non quella di chi ci sta vicino. I lontani ci allettano di più, ma è con i vicini che innanzitutto abbiamo una responsabilità, è innanzitutto all'oro che Gesù ci manda, e ci chiede di predicare soprattutto una vicinanza più che una teoria. Il regno è vicino. La predica che i vicini ascoltano è fatta di prossimità, non di parole. Possiamo far giungere loro la buona notizia del Vangelo, soprattutto cercando di esserci nella loro vita. Esserci non per risolvere tutti i problemi, ma esserci perché non sperimentino l'inferno di sentirsi soli davanti a ciò che conta. Un cristianesimo rinchiusi in sagrestia o in forme di vita staccate dal mondo, sono la perversione del Vangelo. Persino il più austero monaco o monaca di clausura scelgono quella via per essere più dentro la storia e gli altri, e non per esserne tagliati fuori. Grazie. Grazie.